Non avete idea di cosa ho acquistato ieri, in maniera del tutto casuale, me lo sono ritrovato davanti, lo volevo da un secolo ma online costava troppo, veramente troppo L'ho trovato in un supermercato, adesso ve lo faccio vedere Sto parlando di questa meraviglia, ovvero un terrario Online c'erano dei prezzi veramente assurdi, quindi quando l'ho visto a 13 euro ho detto no, deve essere mio E' troppo bello, è veramente una specie di micromondo con queste piantine che non hanno bisogno di nessuna attenzione, è un po' sul genere marimo diciamo E adesso lo andiamo a vedere bene insieme Eccolo qui, guardate che carino Mi fa impazzire che ci sia scritto il tuo giardino di vetro, ma anche la piantina è spettacolare Io ho scelto questa ma ce ne erano veramente tantissime C'erano anche barattoli più allungati, io ho scelto questo che è bello tozzo, guardate qui E mi faceva impazzire questa piantina, quindi ho voluto prenderlo Tra l'altro oggi c'è un tempo, una luce veramente brutta, quindi faccio fatica a farvi vedere bene quanto è meraviglioso Validissima alternativa ai marimo